Siamo a Capracotta nel giorno di Ferragosto, c'è tanta vivacità su una popolazione residente di 700-800 persone. In questo periodo ci sono circa 8000 persone che sono qui a Capracotta a trascorrere questi giorni di festa. Assessore, perché secondo lei c'è questo turismo che arriva qui a Capracotta? Più di richiamo perché molti sono anche capracottesi che vengono a trascorrere questi giorni di festa. E che vengono a trascorrere un po' di pace, di tranquillità. Oltre al richiamo, oltre al turismo di ritorno c'è proprio tanta tanta gente che non ha nulla a che vedere con Capracotta, turisti veri. Il numero io credo che sia anche sottostimato. E rispetto al numero vorrei fare un plauso ai dipendenti del comune. Perché quello che stanno facendo in questi giorni con una popolazione che 10-12 volte in più rispetto a quella dei giorni normali è quanto più incredibile ci possa essere. Capracotta è tra i paesi morisani quella che nasconde meglio le molteplicità e brillante esperienze di tante personalità che ci sono affermate e distinte nei diversi ambiti professionali che trascorrono il ferragosto nel paese natio. Sebastiano Di Rienzo, nato a Capracotta, il paese dei Sarti, da oltre mezzo secolo è ambasciatore del fashion made in Italy. Ritorna sempre con molto piacere qui nel suo paese. Questo è vero. Io praticamente non sono mai partito da Capracotta, come diceva Maria Stella. In effetti ogni 15 giorni vengo e per me, oltre che nostalgia, salute, convivenza con tutti quanti, è una cosa speciale per me venire a Capracotta. Giovanni Pollice, nato a Capracotta ma tedesco d'adozione, si è trasferito da oltre mezzo secolo in Germania, figlio di emigranti. E' presidente anche dell'Associazione Nazionale dei Sindacati Tedeschi contro il Razzismo. Come trascorrerà il ferragosto? Lo trascorrerò con amici, visto che io vengo spesso, anzi ora che ho più tempo essendo pezzonato, vengo 3-4 volte l'anno. Quindi oggi sono fiero del fatto che vengono a trovarmi anche amici da fuori Capracotta. Quindi sarà, secondo me, una bellissima giornata. E poi ho come ospiti la banda tedesca che ho portato qui, che c'è un legame stretto con la nostra famiglia. Lei è un appassionato di musica classica e fa questo omaggio alla sua Capracotta? Sì, l'anno scorso ho portato l'Orchestra Sinforica del Molise. Quest'anno la banda, come dicevo, è legata molto alla nostra famiglia, che fa un altro genere di musica. Però, niente, mi sono sentito anche di chiederlo se venivano volentieri, cosa che hanno fatto con grande entusiasmo. A menù che cosa ha preparato la sua gentile consola? Allora, guarda, mi hanno regalato, perché qui si può fare del cinghiale. Natalino Soso mi ha portato del cinghiale speciale, già tutto posto, e quindi pranzeremo con le tagliatelle al cinghiale. Assessore, lei invece a tavola cosa troverà? No, 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 ci penso a mio fratello, sta cucinando tutto lui. Però vorrei dire un'altra cosa rispetto alla domanda di prima, tutta la gente. Secondo me c'è un problema che mi ricorda molto la canzone del grande napoletano. Lì si diceva Napoli è qui e Capracotta è. Capracotta in questi giorni ha tante cose, proprio tante tante, dai colori, dalle luci, dai giovani, tantissimi giovani. Dalla gente che si ritrova, dai turisti che vengono. È Capracotta, è la montagna del Molise e teniamocela stretta. Bene, allora noi terminiamo questo collegamento da Capracotta. Ringrazio i miei graditi ospiti che sono stati qui con me. Non mi rimane che augurare a tutti un buon Ferragosto. Buon Ferragosto. Grazie.